Se pensi che l'ansia non influenzi la vita delle persone, ascolta questo video. Una breve premessa, ci sono alcune caratteristiche che le persone ansiose hanno in comune, non tutte ma molto spesso è così, una di queste è l'incertezza. La persona ansiosa non tollera l'incertezza perché non tollera tutto ciò su cui non possiede il controllo e molto spesso cerca di avere il controllo su situazioni che dipendono da altri, non da se stesso o da se stessa e cerca di ottenere questo controllo con i pensieri, le azioni, senza mai riuscirci. Questo la fa finire in un loop ansioso, cerca di avere il controllo su qualcosa su cui non posso avere il controllo alimentando la mia ansia. Altra caratteristica molto presente è quella di non tollerare e mettere confini. Non posso mettere confini perché in qualche modo dire di no mi è scomodo, motivo per cui tendo a diventare un people pleaser, essere troppo accondiscendente, ma nel suo versante opposto sono una persona molto rigida perché tutto ciò che mi porta ad uscire dalla mia comfort zone ecco immediatamente deve essere bloccato perché mi metterebbe ansia. E avviene talmente in automatico quest'ultima cosa che a volte la persona manco si rende conto che gli risulta scomodo uscire dalla propria comfort zone. Diventa proprio un automatismo, un'abitudine. Entrambi questi comportamenti sono tipici di persone ansiose. Molte persone ansiose ce le hanno. Un'altra caratteristica della persona ansiosa è che non sa gestire situazioni con molta gente. Le situazioni uno a molti sono difficili da gestire. Altra caratteristica della persona ansiosa è quella di sentirsi sbagliata quando c'è un errore. Magari sei in un gruppo e succede qualcosa che non va e subito pensi che forse dipende da te. Ma altra caratteristica della persona ansiosa è quella di dire No, no, non è colpa mia, è colpa tua. Quindi questo guilt shifting, spostare la colpa sull'altro, metterla fuori, non da me. Perché? Perché sono troppo fragile, intollerante a sentirmi sbagliato. E quindi immediatamente vado sulla difensiva. Fatta questa premessa andiamo a vedere come queste cose si traducono nella vita quotidiana. Non lascio il lavoro per paura, per paura di non trovare un'altra cosa, qualsiasi giustificazione che mi permetta di rimanere dove sto male, io me la dico, ma in realtà è la mia ansia che mi obbliga a stare lì dentro. Oppure non dico mai di no al mio capo e mi sovraccarico, o ancora dopo essermi sovraccaricato mi sento sbagliato perché non riesco a portare a termine le cose per cui mi sono sovraccaricato. Anziché mettere dei confini e delegare, cerco strategie per sovraccaricarmi ancora di più. E quello è il mio obiettivo. Non accetto promozioni perché temo di non essere all'altezza, mi porterebbero fuori dalla mia comfort zone, mamma mia. Oppure dovrei espormi in situazioni pubbliche, uno a molti. Quindi no, 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 anche se quella cosa è il mio obiettivo, è quello che desidero, è quello che cerco, è quello per cui ho lavorato, alla fine lo scaso. Ti metti in discussioni abbastanza a lungo all'interno di contesti di gruppo, anche professionali o di amici, da apparire tu quello che ha sbagliato, da permettere ad altri di scaricarti le responsabilità ad osso. Se invece sei una persona che ricopre un ruolo di leadership, scarichi le tue responsabilità ad osso ai dipendenti, portandoli a dovesse in qualche modo difendere, a dover in qualche modo usare uno scaricabarile tra di loro, in qualche maniera svincolarsi da quello che è un sano rapporto all'interno del team e quindi peggiorando le prestazioni, perché sei ansioso. Non lasci il partner per timore di fare la scelta sbagliata, ma davvero sarà giusto e giustificato il fatto che per questo io lo lasci, ma poi troverò qualcun altro e vai in questo loop ansioso nuovamente che ti porta a stare dove stai male. Isulti, scontroso e antipatico, mentre invece sei timido e timoroso, ma all'esterno appare in questo modo. Procrastini all'infinito le decisioni per il timore di fare la cosa sbagliata, non sai se è giusto, non sai se è corretto. E questa, questa è la più bella di tutte, secondo me, cerchi la perfezione. Non è mai abbastanza buono, non hai mai fatto abbastanza bene e quindi tu insisti in questo meccanismo di migliorare il tuo livello. E con la scusa di migliorare il tuo livello, in realtà che stai facendo? Stai procrastinando scelte, decisioni, comportamenti che ti porterebbero fuori dalla tua comfort zone. E quindi in questo modo rimani dentro la tua comfort zone. E quindi ti racconti che in realtà non sei all'altezza e che ti stai preparando, mentre invece stai procrastinando per il timore di uscire dalla comfort zone. Quest'ultimo pezzetto lo devi riascoltare perché è davvero importante, ok? Condividi il video con tutte quelle persone che ritieni abbiano bisogno di sentirlo, con tutti quelli che fanno parte della grande famiglia di pane, ansia e nutella, ok? Ciao!